. Vantaggi e impieghi dell'acqua ossigenata Sicuramente penserete che l'acqua ossigenata sia uno degli elementi del kit di primo soccorso che serve solo a disinfettare le ferite, ma non c'è niente di più lontano dalla realtà. I molteplici impieghi del perossido di idrogeno vi lasceranno a bocca aperta. Scoprite di più nel seguente articolo. L'H2O2 è l'unico agente germicida composto unicamente da acqua e ossigeno che uccide i microrganismi patogeni. Per questo viene considerato il disinfettante naturale più sicuro ed efficace. . Tuttavia, esistono molti impieghi dell'acqua ossigenata, come la si chiama comunemente, che di sicuro non conoscete. . Per sbiancare i vestiti, aggiungete una tazza di acqua ossigenata ai capi bianchi per evitare che si ingialliscano con il passare del tempo. Serve anche per rimuovere macchie di sangue dai tappeti. . Versatela direttamente sul tessuto, lasciate agire per un minuto e sfregate con una spazzola. Infine sciacquate con acqua fredda. . Per un bagno disintossicante e ringiovanente, utilizzate qualche cucchiaio di perossido di idrogeno al 3 in una vasca con acqua tiepida. Immergetevi per mezz'ora e se necessario aggiungete acqua calda per mantenere una temperatura più piacevole. . Eliminerà i microrganismi che si accumulano sulla pelle e che possono causare malattie. . . Per trattare funghi ai piedi, sfregate una miscela in parti uguali di acqua ossigenata e acqua del rubinetto. Spargetela tra le dita o sulle unghie tutte le notti e lasciate che si asciughi da sola. . Se presentate delle infezioni croniche, mettete due misurini di perossido di idrogeno in acqua distillata calda e applicatela una o due volte a settimana. . Per fare irrigazioni del colon o clisteri, aggiungete una tazza di H2O2 a circa 15 litri di acqua per le irrigazioni del colon, e un cucchiaio di H2O2 a un litro d'acqua distillata calda per i clisteri. . Per evitare infezioni, versate delle gocce di acqua ossigenata su un'infezione, una ferita o un taglio varie volte al giorno. Nel caso in cui ci sia un principio di cancrena, immergete direttamente nell'H2O2 pura. . . Per curare infezioni da acari, se presentate questo problema potete utilizzare un nebulizzatore con acqua ossigenata pura per applicarla sulla pelle ogni ora. . Per alleviare le infezioni dei seni paranasali, mescolate un cucchiaio di perossido di idrogeno con una tazza di acqua senza cloro e versate la miscela in un recipiente per utilizzarla come aerosol nasale. . Per sciacquare la bocca e prendersene cura, mettete un tappo di acqua ossigenata in bocca e tenetela per 10 minuti senza ingoiare. . 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 Con dell'ovatta applicate dell'acqua ossigenata sulle parti interessate e lasciate agire per qualche ora. Sciacquate e poi mettete una buona crema idratante. Non esitate a usare una crema solare con un alto fattore di protezione quando uscite di casa come misura preventiva. Per lavare le orecchie, mescolate una goccia di acqua ossigenata con un po' d'acqua tiepida e rimuovete il cerume dalle orecchie più facilmente.